Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Oka Tecton X2, nuova versione delle Tecton X, la scarpa con piastra in carbonio di casa Oka, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito guardando le caratteristiche di queste Oka Tecton X. Per quanto riguarda la suola, avremo una suola Vibram Mega Grip con tecnologia Light Base, è un tassello da 4 mm, intersuola in ProFly Plus con un'altezza di 32 mm sul tallone, 27 sull'avampiede, quindi un drop di 5 mm, tomaia in tessuto Matrix, il tutto per un peso di 252 grammi nella taglia 42. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche possiamo iniziare con i pregi e difetti. Iniziamo come sempre dalla suola di queste Oka Tecton X2, suola Vibram con tecnologia Mega Grip Light Base. Il Mega Grip, come sappiamo, è una mescola che ha una buona tenuta e anche in questo caso si riconferma. Io l'ho provata su un po' tutte le superfici, vi assicuro, vabbè, per quanto riguarda tutta la parte di asciutto non ha nessun problema anche su roccia. Su bagnato, anche su roccia, se la cava abbastanza bene, l'unico punto in cui mi fa storcere un po' il naso è sul fango. Questo tassello da 4 mm, essendo anche tanti tasselli e il fango non riesce a pulirsi mentre corriamo, diciamo che è molto semplice scivolare sul fango con queste scarpe, ma poi vediamo anche bene dove è meglio utilizzarle queste Tecton X2. Nota che ci tengo sempre a fare è che troviamo davvero tanta parte di intersuola esposto. Questo alla lunga può rappresentare veramente un problema perché con tutto questo intersuola esposto può andarsi a consumare prima la parte dell'intersuola che è molto morbida rispetto alla suola. Quindi anche se la scarpa magari avrebbe ancora da fare 200-300 km, saremmo costretti a cambiarle precocemente. Continuiamo, arriviamo a parlare dell'intersuola. Qui troviamo un'intersuola, come vi dicevo, in materiale ProFly Plus. Un'intersuola che a me è piaciuto molto. Un'intersuola comunque molto ben ammortizzante, cioè con una scarpa del genere ci farei anche delle gare abbastanza lunghe, ma soprattutto la parte più interessante sono le due piastre di carbonio messe all'interno dell'intersuola. Come vi dicevo troviamo due piastre di carbonio separate, queste le conferiscono un'ottima torsione e un'ottima stabilità. Davvero, utilizzando questa scarpa, penso che sia la prima scarpa per quanto riguarda quelle in carbonio, che veramente è molto precisa, molto stabile. La utilizzerai anche su terreni non dico super tecnici, però già se troviamo delle radici, comunque dei sassi, può andare ancora bene. A livello di ammortizzazione poi ci siamo, perché comunque ProFly Plus è un ottimo materiale ammortizzante e per quanto riguarda la reattività, beh, con queste due piastre in carbonio abbiamo una reattività eccellente davvero. Cioè con queste scarpe corriamo anche a 4 km e sentiamo che le scarpe proprio viaggiano, quindi sicuramente è una scarpa con quale correre veloce. Saliamo, arriviamo a parlare della tomaia, che è forse la parte che più cambia rispetto alla versione precedente. Per quanto riguarda il puntale, troviamo un puntale, diciamo, di media durezza. Ecco, se prendiamo dentro in modo deciso contro un sasso, contro una radice, diciamo che la botta la sentiamo, quindi facciamoci un po' d'attenzione. Quella che cambia del modello precedente è tutta la tomaia. Qui troviamo una tomaia in tessuto Matrix, che per natura del tessuto è un po' idrorepellente, anche se via dei decols, come l'idrorepellenza è veramente minima, minima, minima. In compenso è veramente molto, molto traspirante. Io l'ho bagnato, ho messo il piede all'interno di un ruscello e davvero in qualche centinaio di metri la scarpa era completamente asciutta, quindi dal punto di vista della traspirabilità, anche utilizzando questa scarpa in delle giornate molto calde e estive, penso che il piede all'interno non studi praticamente mai. Altro aspetto che mi piace molto di questa tomaia è che poi abbiamo tutte queste parti laterali in tessuto semiplastico che praticamente va a proteggerci molto bene dagli urti laterali, quindi anche se dovessimo prendere contro qualche roccia o qualche radice di striscio non sentiamo particolarmente dolore, quindi molto bene. Continuiamo, arriviamo a parlare del tallone. Qui troviamo un tallone abbastanza strutturato nella parte inferiore che pian piano si destruttura salendo e come vi dicevo tra la parte della intersuola e questo tallone vi assicuro è una scarpa molto precisa, è una scarpa col quale io non ho mai preso delle storte e con la quale andrà a correre anche su un po' di misto senza tanti problemi. Mi piace poi tutta la parte superiore imbottita che è un'imbottitura abbastanza minimale, nel senso che non troviamo così tanto tessuto, però comunque è messo nei punti giusti, quindi lavora molto molto bene. Per quanto riguarda linguetta e lacci, la linguetta è di tipo racing, quindi ridotta all'osso molto sottile, però non dà per nulla fastidio, anzi riduce l'ingresso di materiale detritico che potrebbe entrare all'interno della scarpa, protegge bene dalla pressione dei lacci, quindi linguetta promossa e anche i lacci, nulla da dire, mi ci sono trovato bene una lacciatura abbastanza classica, quindi top. Per quanto riguarda la soletta, qui troviamo la soletta Oka, io mi sono trovato bene, non ho avuto problemi, il piede non scivola anche in discesa con scarpa bagnata, quindi si può sostituire, ma io personalmente andrei avanti a utilizzare quella data in dotazione perché mi ci sono trovato bene. A livello di calzata, queste Oka Tectonics 2 sono abbastanza simili al modello precedente, quindi troviamo una calzata comunque molto fasciante, molto precisa, con giusto qualche millimetro in più sull'avampiede, nel caso si debba andare a fare delle gare di ultra il piede possa tendere a ingrossarsi. Però comunque tendenzialmente vi dico, se avete provato le Tectonics dell'anno precedente potete prendere lo stesso numero di queste X2 e vi troverete molto bene. Per quale runner consiglio queste Oka Tectonics 2? Secondo me potete utilizzarlo qualsiasi tipo di runner, davvero, non avendo poi una piastra completamente rigida a tutta lunghezza all'interno dell'intersuola, questa scarpa davvero può essere utilizzata praticamente da chiunque. Fermo restando che i benefici sicuramente si sentono quando si corre a un certo ritmo. Diciamo che se siete dei corridori che viaggiano durante le gare, quindi viaggiano e corrono parecchio, allora ci sta. Se siete dei corridori che invece camminano tanto durante le gare, potete comunque prenderla, però magari in quel caso è meglio guardare altri tipi di scarpe di Oka. Su quale terreno la userei? Allora diciamo che io l'utilizzerei un po' su tutti i terreni, al di là del fango, perché sul fango veramente ci sono scivolato parecchio. Per quanto riguarda le distanze, secondo me con una scarpa del genere potremmo farci anche una 80-90 km. Non andrei oltre perché magari dopo serve un pochino più ad ammortizzazione. Però diciamo che una gara da 80 km con del terreno un po' misto ci può ancora stare. Se invece avete una gara con tante parti tecniche, forse in questo caso non è la scarpa ideale. Detto ciò, vi consiglio queste nuove Oka Tecton X2? Sì, io mi ci sono trovato veramente molto bene. Penso che tra tutte le scarpe in fibra di carbonio che ho provato, queste siano quelle più utilizzabili dalla massa di pubblico, quelle più facili da utilizzare, quelle che più si adattano quasi a tutti i runner, quindi molto bene. Prezzo vengono vendute dal sito ufficiale Oka 220€, io online le ho già trovate sui 180€, molto meno rispetto ad altre scarpe con fibra di carbonio di altri marchi, quindi siccome anche il prezzo ci sta. Dato ciò ragazzi, una speranza sia stato esaurente e sostitivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!